Come ho parlato con la squadra? Chi sbaglia vuol dire che non riesce a reggere la pressione per un mondiale, secondo il mio punto di vista, ma soprattutto sono stanco e stufo di vedere questi atteggiamenti perché forse siamo rimasti uno degli ultimi campionati dove vediamo ancora questi atteggiamenti. Ho detto loro che i giocatori della nazionale, soprattutto i giocatori della nazionale, devono avere una forza interiore, non devono assolutamente pensare con gesti o con gomitate o con cazzotti di prevaricare l'avversario, ma devono essere forti. Quindi questo ho detto, ho detto che... Ma va fangola Ha! Ha!